Torna di attualità l'istituzione del Legam decisa dal Governo regionale contro il parere di un gruppo di sindaci molisani che si erano rivolti al Tar, ottenendo peraltro ragione per l'annullamento della delibera della Giunta e dei successivi atti. Ora si apre un nuovo fronte, un nuovo contenzioso tra i Comuni e la Regione. Le amministrazioni comunali che non hanno aderito al Legam rischiano infatti il commissariamento. Una conseguenza che i sindaci hanno definito un atto di forza da parte della Regione che ha innescato per la seconda volta un grave conflitto istituzionale a danno degli enti locali e delle loro comunità. Secondo i Comuni, decreti di commissariamento del Presidente della Regione violano l'autonomia costituzionale dei Comuni stessi che avevano scelto, attraverso il pronunciamento dei rispettivi consigli comunali, di non aderire all'ente per la gestione delle risorse idriche. Dunque, il commissariamento rappresenta un'ingerenza della Regione nelle attività delle amministrazioni locali. Così, i Comuni di Campo di Pietra, Civitanova del Sannio e Pietrabbondante, Belmonte del Sannio, Roccamandolfi, Acquaviva di Isernia, Campochiaro e Agnone, hanno dato mandato agli Avvocati Ruta, Zezza e Romano, che li avevano già assistiti dinanzi al Tarne nella prima fase della controversa vicenda, per tutelare le loro ragioni e quelle delle comunità che essi rappresentano. Il commissariamento, ha commentato il sindaco di Campo di Pietra, Giuseppe Notartomaso, è il primo atto di un processo inesorabile di svuotamento dell'autonomia dei Comuni nella gestione del servizio idrico. Poi, ha aggiunto, toccherà le reti infrastrutturali, che si imporrà di cedere gratuitamente al Legam, e infine l'affidamento del servizio ad un gestore unico che, temiamo, non potrà che essere un operatore economico privato, visto che il procedimento di costituzione della società in house, previsto dalla legge, è ancora fermo al palo e nessuno ne ha più parlato. Ha concluso il sindaco di Campo di Pietra, che porterà avanti la sua battaglia contro l'Egam e contro il rischio di privatizzazione delle risorse idriche molisane.